esistono pensi che non esistono ma che cos'è? una gang di stroppatori ma ci sono questi esseri alieni ma ci sono questi una gang di stroppatori è uscito da acqua è pepe che fai messo l'antana che c'era è sempre una torta e il filo che ti cacciate alla mano rifaccio